Ok, facciamo decidere la sorte What's up boys? Siamo qua per portarvi questo film Genere horror thriller del 2014 Diretto da Gregory Avalone Se così si dice Fra il cast c'è Kate French Brandon Wayne John Oatrin Yvette Yates Christian Coppen Sono nomi non famosissimi Però figo perché spunta anche Un attore Che è uno dei killer di questo film Che è recitato pure in venerdì 13 parte 7 In una piccola parte, niente di che Però Parlando del film Non ha queste location così fenomenali Semplicemente dei semplici boschi È una semplice casa di campagna Però è figo Il modo in cui sono state effettuate tantissime riprese Giocando molto di luci e di contrasti Questo io lo devo Per il resto parlando della trama È abbastanza semplice Una roba un po' alla non aprite quella porta Del tipo che conosci gente ma non ci si può fidare di nessuno Però nemmeno troppo crudo Il classico horror dove dei ragazzi si ritrovano in una casa In campagna Che alle spalle ha una leggenda Riemergono dei fatti Riemergono delle cose Pian piano qualcuno inizia a scomparire Loro non possono muoversi da là E pian piano qualcuno muore Per cui siamo molto basic con questo film Forse anche fin troppo Perché non ci sono nemmeno quei tot di spunti In più A renderlo un po' diverso da altri Ciò fa sì che sia anche un po' tutto prevedibile Nonostante ciò a livello attoriare Devo dire che c'è qualcuno che se la cavicchia Un po' di più E che ha avuto modo di dare un po' se stesso Mi riferisco tipo alla protagonista E a uno dei killer Quello grassottello con capelli corti A Cristina Cicciottello Che ha veramente uno suguardo da maniaco Ed era più che adatto a questo film E ha avuto modo di fare la sua piccola parte All'interno del film Forse anche una delle parti Un poco più Spinte Crude non direi Però Con un minimo di violenza Detto questo Penso di non avere più Tanto da Dire di questo film Forse un qualche piccolo Colpo di scena Per chi Non se lo aspetta Salva Di poco poco il film Poi comunque per il resto Vi invito a Dargli un occhio Così in caso mi direte Se La vostra opinione Combacia con la mia O meno In quel caso Sono curioso di sapere Cosa ne pensate Anche qua sotto Se vi va E se vi va Continuate a seguirmi Insomma E noi ci vediamo A un fottutissimo Prossimo video Il kill count Di The Red House Ammonta A Tre persone Più Molto probabilmente Un cattivo Prossimo video